Le cose stanno così. Il tuo cervello vorrebbe continuare a pensare alla miserabile interrogazione di storia che devi affrontare domani. Ma il corpo si ribella. E che corpo? Lo vedi correre nel buio come il vento, saltare in un colpo macchine su macchine al parcheggio. Naturalmente domani la paghi, ma ne vale la pena. Mi sveglio sempre rigida e indolenzita, con le mani in piedi e la faccia sporchi. Perciò devo saltare nella doccia prima che Hilda mi veda in quello stato, non che lei capirebbe ma perché correre rischi. Meglio far finta che a preoccuparmi sia l'altra cosa. Allora lei attacca. Andiamo, tesoro. A tutte fa male la pancia. Non è un buon motivo per andare in giro a piangere e lamentarsi. Che fai? Non vai a scuola perché hai le tue cose? Se Hilda non mi piacesse. Cosa che non è, anche se lei non è mia madre ma solo una matrigna. Le farei vedere un giochetto che mi terrebbe fuori dalla scuola per sempre. E non scherzo. Del resto c'è altra gente a cui farlo vedere. Ad esempio quella carogna di Billy Linden. Ehi, tettona! Mi fa lui in corridoio davanti all'aula dei compiti. Molti ragazzi si sono messi a ridere, ovvio. Anche se Rita Fry l'ha chiamato stronzo. Fu Billy a cominciare. Direi è sempre lui che comincia. Con quella boccaccia. Al principio del trimestre mi venne addosso urlando. Ehi, guardate, Bornstein! Quest'estate deve esserle successo qualcosa. Che è successo? Bornstein! Ehi, guardate, tette, Bornstein! Poi mi strizzò il petto e io gli diede una botta sulla spalla. Lui rispose con un pugno in faccia e la testa cominciò a girarmi. Mentre per lo shock scoppiavo a piangere davanti a tutti. Me la sono sempre cavata nella lotta e fare a pugni coi maschi sono forte per una ragazza. Ma quella volta è stato diverso. Lui ha colpito duro per fare male e la sorpresa mi ha stretto. La bocca dello stomaco mi ha fatto provare un conato di vomito. Oltre che farmi infuriare. E morire di vergogna. Tornai a casa col naso insanguinato e mi sdraiai a testa in su con un asciugamano e ghiaccio sulla faccia. Mi sgocciolava fino nei capelli. Benvenute e benvenuti. Io sono Andrea. Condivido letture ad alta voce il sabato pomeriggio. E questo è il quarto e presumibilmente ultimo testo di una serie che sto proponendo sul tema del ingresso a scuola. In questo caso, vedete, si tratta del rientro di una ragazza che si è formata durante le vacanze. Il racconto è di un'autrice che si chiama Susie Mackey Charnas e si intitola... Per un'ingiustificata pruderie, l'edizione italiana ha avuto un titolo diverso dall'originale, ma il titolo originale inglese è Boops, che letteralmente vuol dire Tette. Per la verità ne sono state pubblicate tre edizioni in Italia con tre titoli diversi e solo una, la più recente, si chiama Tette. Ma io non ce l'ho, io ne ho in casa una traduzione più antica pubblicata col titolo No, vabbè, il titolo italiano svela troppo Non ve lo posso dire ancora Hilda sul divano accanto a me mi accarezzava A un tratto mi fa Mi dispiace per quello che è successo, tesoro Ma prima o poi devi imparare Ormai state crescendo e i ragazzi sono più forti di quanto tu potrai mai essere Se cominci a fare botte ti farai male Devi trovare un altro sistema per trattare con loro Per peggiorare le cose La mattina dopo Comincio a A sanguinare La sotto Per fortuna Hilda me ne aveva parlato dettagliatamente un paio di volte e quindi sapevo di cosa si trattava Hilda aveva fatto uno sforzo extra per non essere troppo brusca sull'argomento ma io Detestavo il momento in cui si era messa a Spiegare i Magnifici cambiamenti che avvenivano nel mio corpo che sono così importanti E com'è bello Diventare donna Proprio Era una cosa tanto sporca e disgustosa Tanto più brutta Di quello che lei aveva detto che io avrei potuto immaginare Con quei piccoli grumi neri di roba appiccicosa che venivano fuori in un rivolo di sangue rosa Che pensai di stare per vomitare E solo il rivestimento del tuo utero diceva Hilda Bell'affare Era sempre una schifezza e poi l'odore Hilda cercò di farmi sentire meglio Ci provò davvero Disse che avremmo festeggiato l'avvenimento Come i popoli primitivi Così sarebbe diventata Una ricorrenza Non solo una brutta cosa che devi sopportare Perciò Decidemmo Di mettere via Il povero vecchio Pinky Il cane di pezza con cui dormivo Da quando avevo tre anni Pinky è spelato E si è indurito e rovinato tutto Perché una volta è finito Per sbaglio in lavatrice Non avreste mai detto Che un tempo fosse stato morbido E neppure rosa L'ultima volta che la mia amica Jerry Ann Era venuta a trovarmi Prima dell'estate Aveva visto Pinky sul mio cuscino E anche se non aveva detto niente Si capiva che la giudicava Un'abitudine infantile Così avevo pensato Di togliere di mezzo Pinky Gli facemmo una bella cuccia Foderata Con i ritagli Della scuola di taglio di Hilda Lo ringraziai Per essere stato amico Tanti anni E lo mettemmo Nell'armadio Sull'ultimo ripiano Mi sentivo malissimo E Se Jerry Ann Mi aveva giudicato Troppo infantile Per restare mia amica Adesso correvo il rischio Di essere completamente sola Se non avete fortuna Con gli altri Nemmeno quando siete Pelle e ossa E così veloci Che tutti vi vogliono Nella loro squadra È facile pensarla come me La mattina dopo Hilda e papà Mi mandarono a scuola Per far vedere a tutti Che non avevo paura Di Billy Linden Come invece era E che uno come lui Non poteva tenermi a casa Facendo il bullo Tutti mi guardavano In modo strano E mormoravano Sapevo che dipendeva Dal mio buffo modo Di camminare Per via del Pannolino fra le gambe E perché sentivano L'odore di quello Che mi stava capitando E quanto ne sapevo Non era ancora successo A nessuno In terza A Proprio come nessun'altra Aveva niente di importante Nel reggiseno Da ragazza E grazie del complimento Io me ne stavo Lontano dagli altri Più che potevo E non parlavo Nemmeno a Jerry Ann Perché temevo Che mi chiedesse Come mai camminavo In quel modo E avessi addosso Quell'odore Billy Linden Per così poco Belli sarebbe impazzito Di gioia A vedere che Ero costretta A reggermi Il naso Oltre le tette Quella notte Mi alzai Quando Quando gli altri Pensavano Che dormissi E mi Tolsi La Maglietta E le mutandine Con cui vado A letto Poi mi guardai Allo specchio Non c'era bisogno Di accendere la luce La luna era piena E brillava Proprio sul mio letto Attraverso La grande finestra Della stanza Incrociai le braccia E mi diedi Un pizzicotto Feroce Come per punire Il mio corpo Di quello Che mi stava facendo Neanche avessi potuto Impedirglielo Non mi stupiva Che Eddie Siler Due anni E più Avanti di me Si fosse lasciata Morire di fame La capivo Perfettamente Cercava di contenere Il suo corpo Di fare in modo Che restasse normale Forte E sottile Come ero anch'io Quando somigliavo Ancora A un essere umano E non alla caricatura Che qualcuno Chiamava tettona Poi Un Rivolo tiepido Scese In una riga Sottile All'interno Della mia gamba Capì Che era sangue Allora Non ne potei più Strinsi Le cosce Una contro l'altra Chiusi Gli occhi Forte Forte E feci Quello che feci Voglio dire Mi resi conto Che stava per succedere Mi sentii Ridurre A un nucleo Duro Di fuoco freddo Che sprigionava Dalle mie ossa Sentii la carne Spaccarsi E i muscoli E altri filamenti interni La pelle luccicava E si librava Quasi senza peso Splendente Di luna E capii Che era in atto Una specie Di metamorfosi Un cambiamento Dell'equilibrio Pensai Che stavo Per svenire A causa Delle stupide Mestruazioni Così Mi girai Verso il letto E mi ci buttai Sopra Ma quando Toccai la superficie Capii Che c'era Proprio Qualcosa Che non andava Innanzitutto Il naso E la testa Erano assaliti Da sensazioni Ricche Assurde Che mi ci volle Un po' di tempo A identificare Come odori In realtà Erano molto più forti Di qualunque odore Avessi mai sentito Inoltre erano Non so come dire Interessanti Invece che Solo odorosi E questo vale Anche per i più Sgradevoli Apri la bocca Per sentirli Meglio E mi accorsi Che Ansimavo Come se Avessi fatto Una corsa Cosa che Non era Allora mi resi conto Che la mia faccia Si era allungata E dentro C'era qualcosa Che si muoveva La mia lingua Mi stavo leccando I baffi Ci fu un momento Di panico Assoluto Terribile Balzai a terra E attraversai La stanza Ansimando Guaendo Mentre le unghie Delle mie zampe Ticchettavano Sulle assi del pavimento Poi mi accucciai Nell'angolo E me ne steti Nascosta Perché temevo Che Papà e Hilda Mi sentissero Venissero a vedere Che cosa Provocava Tutto quel Trangusto Io li sentivo Sentivo Il letto Cigolare Quando uno Dei due Si girava Sul fianco E il respiro Di papà Che si bilava Un poco Come se Russasse Sentivo I loro Odori Ognuno Era un insieme Di profumi Diversi Come quei Dessert Di gelato Misto Che chiamano Tutti i gusti Il mio corpo Tremava Fremente Di paura Ed energia E la mia Stanza Una Mansarda Trasformata Ampia Ma col Soffitto Che in certi punti Era piuttosto Basso Mi sembrava Una prigione Inoltre Ero Terrorizzata Dall'idea Di guardarmi Allo specchio Avevo le idee Abbastanza chiare Su quello Che avrei visto E non volevo Vederlo Come se Non bastasse Dovevo Fare pipì Ma non Usavo Affrontare Il gabinetto Nello stato In cui ero Così Spalancai La porta Della stanza Con una spalla E per poco Non cadi dalle scale Cercando Di coordinare Le quattro zampe Invece che Limitarmi a seguire L'istinto del corpo Misi Le mani Sulla porta D'ingresso Per aprirla Ma non erano mani Erano zampe Con lunghe Dita Pelose Munite Di artigli neri Lo stomaco Stava per scoppiarmi Dall'orrore E gridai Venne fuori Una specie Di guaito Che risuonò Agghiacciante Nel mio cranio Mentre Era il piano Di sopra Hilda Si svegliava Giè Cos'è stato Quando sentii Che papà Metteva i piedi Sul pavimento Sfracciai Verso la cantina La porta Della cantina E lucchetto Difettoso Così mi bastò Scostarla Per andare giù Sulle scale Sulle scale Me la cavai Meglio Perché ero Troppo impaurita Per riflettere Passai laggiù Il resto Della notte Gemendo Fra me E me Il che vuol dire In realtà Sbuffando Attraverso il naso E descrivendo Il perimetro Della stanza Perché speravo Che Sfregandomi Contro le pareti Avrei potuto Liberarmi Di quella forma Pazzesca A volte però Mi muovevo Per il semplice fatto Che non riuscivo A star ferma Quel posto Era pieno Di puzze E di lente Correnti D'aria Calde E fredde Non riuscivo A reggere Tutti quegli stimoli Quanto al bisogno Di fare pipì Mi Accovacciai Sul bordo Della vaschetta Di scuolo Accanto alla banca Del lavoro Di papà E mi liberai là L'unico problema Fu che non potei Aprire il rubinetto Per eliminare l'odore E questo A causa Delle mie zampe Verso le tre Del mattino Mi svegliai Dal sonno In cui ero Piombata Dopo essermi accocciata In un rettangolo Di pavimento Che mi auguravo Libero dai ragni E mi accorsi Che non vedevo Nel buio Né sentivo Odori Capii Di essere Tornata normale Anche prima Di controllare E scoprire Che avevo Dita Al posto Degli artigli Mi precipitai Di sopra E rimasi Sotto la doccia Per tanto tempo Che Hilda Mi sgridò Per aver Consumato Tutta l'acqua calda Visto che doveva Fare un grosso Bucato E che cercavo Di sciogliere Un po' I miei muscoli Indolenziti Ma Questo Non potevo Dirglielo Ok Adesso posso dirvi Il titolo Della mia edizione Del racconto Si chiama Le mie notti Di luna E finalmente È chiaro Perché Viene da una raccolta Intitolata Non solo Con il rasoio Una raccolta Di racconti Dell'orrore Scritti Tutti da autrici Donne È un piccolo Classico Del genere Horror Questo racconto Alla sua uscita Fu vincitore Del premio Hugo Per il miglior racconto E fu finalista Al premio Nebula Sono due dei più Importanti Riconoscimenti Internazionali Della letteratura A tema Fantastico Ha avuto Parecchie edizioni E come vi dicevo Almeno tre diverse Traduzioni italiane La mia Vi dicevo Le mie notti Di luna Poi so che Ne esiste un'altra Che si chiama Plenilumio Appunto Sullo stesso tema E soltanto una Come vi dicevo Si intitola Come nell'originale Tette Fu spaventoso Vestirsi E andare a scuola Dopo una notte Come quella L'unica cosa positiva È che avevo smesso Di perdere sangue Dopo un sol giorno Ma Hilda Aveva detto Che non era così strano La prima volta Quindi Doveva essere Il Il Livido Verdastro Del pugno Di Billy Che tutti Guardavano E a parte E a parte quello Le solite Protuberanze Beh perché no Loro non sapevano Che avevo passato La notte Nel corpo Di una lupa Così Joy Il grassone Mi strappò La cartella Nel corridoio Davanti all'aula Di scienze E la gettò A un tizio Della terza B Io dovetti Inseguirli Per riprenderla E la cosa era studiata Loro si godettero Lo spettacolo Delle mie tette Che andavano su e giù Sotto la camicia Ero così furiosa Che stavo per afferrare Joy il grassone Ma avevo paura Che se l'avessi fatto Lui mi avrebbe dato Un pugno Come Billy Papà aveva detto Non arrabbiarti Troppo Bambina A quell'età Tutti i ragazzi Sono screanzati Hilda mi aveva ripetuto Per tutta l'estate Guarda Non serve a niente Andartene in giro Con le braccia incrociate Anzi Dovresti camminare Col petto in fuori Per far vedere Che sei felice Di essere cresciuta Sei solo un po' precoce Ecco tutto E scommetto Che le altre ragazze Fra sé e sé Ti invidiano Per l'amor di Dio Portano tutte Un reggiseno Dei ducande Come se ci fosse qualcosa Che ha bisogno Di essere retto Ma questi discorsi Poteva farli lei Che non andava a scuola Evidentemente Non ricordava più Che cosa volesse dire Così Smisi di correre E mi limitai A stare Alle calcagna di Joy Finché suonò La campanella E recuperai La cartella Dal cespuglio In cui l'aveva buttata Piangevo Un poco E mi rifugiai Nel bagno Delle ragazze Ci trovai Stessi Ball Che si Metteva Il rossetto Come al solito E poi Come al solito Non mi rivolgeva La parola Ma Poi arrivò Di corsa Rita E disse Che qualcuno Avrebbe dovuto Dare una lezione A quel sommaro Imbecille Di Joy Anche se Ovviamente Era stato Billy Ad aizzarlo Come sempre Rita È una ragazza A posto Ma è Lei stessa Un'emarginata Perché il fratello Minore Ha l'AIDS E molti genitori Pensano che Rita Non dovrebbe venire A scuola Per questo Non mi fermo A parlare con lei Ho abbastanza guai Per conto mio E poi era tardi Per l'ora di matematica A qualcuno Però dovevo parlare Dopo la lezione Mi sfogai con Jerry Ann Che è Più o meno La mia migliore amica Dalla quarta elementare Quando la cercai Non c'era Ma poi La trovai in biblioteca Le dissi che avevo fatto Un orribile sogno In cui ero una lupa Lei vuole diventare Psichiatra Come sua madre Quindi mi ascoltò Con interesse Disse che ero Fuori di testa Grande aiuto Quella sera Mi accertai Che la porta Sul retro di casa Non fosse Completamente chiusa E Andai a letto Senza niente addosso Immaginatevi Cosa vuol dire Trasformarsi in una lupa Con maglietta e mutandine Tremavo Ma aspettavo Che accadesse qualcosa Per stasera ci fermiamo qui Il lupo mannaro Ovviamente come metafora Vale per la crescita Per la trasformazione del corpo Qualcosa che non è sotto il tuo controllo Tette non è Solo per caso Il nomignolo della protagonista È davvero Quello di cui parla Il racconto Un corpo che si trasforma E che Non controlliamo Parla di un Diventare donna O se per questo Anche uomo Che è un disciplinamento Odioso Perché La società È Essa stessa Mostruosa Non a caso Cominciamo a capire Di cosa parla il testo Quando arriva Una scena di sopraffazione Poi Dopo Quando ci viene raccontato Il dettaglio Della trasformazione Capiamo anche All'indietro Di cosa parlavano Le primissime righe Per questo Secondo me Non era giusto Anticipare Troppo il tema Mettendolo nel titolo Come in quella Edizione italiana Che poi è quella Che vi ho letto E Non c'è bisogno Di dire Almeno per I miei Ascoltatori E ascoltatrici Che Ovviamente I veri mostri Sono i bulli Molto più mostri Del lupo Mannaro Però Anche questo Non è abbastanza Perché I bulli Sono bulli Ci fermiamo Davanti Al Problema Che assillava Quel professore Della settimana scorsa Davanti a Quei cinque Che rubavano Il panino Al compagno di classe Qui La situazione È ancora più marcata Perché Ha in più La connotazione Odiosa Della violenza Di genere Ho letto È uscito Proprio un paio Di settimane fa Un articolo Su una rivista Che parlava Del modo in cui Un Un collettivo Politico Un Collettivo Che anima Un centro sociale Ha Affrontato il fatto Che un suo Esponente Si fosse reso Colpevole Di una violenza Sessuale Vi lascio Il Link In descrizione Ma Permettetemi Di leggervi Qualche riga Viviamo in una società Che fomenta La cultura Del castigo Che si concentra Soltanto Sulla responsabilità Sulla responsabilità Individuale Mentre Abbandona A se stessa La collettività Che produce Il clima In cui avvengono Le Aggressioni Gli stupri Le violenze Di ogni tipo Non solo Li giustifica E incoraggia Ciò che chiamiamo Crimini Nella società Non sono altro Che l'espressione Della cultura Di una comunità Fine citazione E Dicevo appunto I Veri mostri Sono i bulli Però Una collettività Che li giustifica Li incoraggia Dice L'autrice L'autrice Non l'ho nominata Si chiama Julesy Palomba È giusto dire il nome E io stavo Preparando Questo video E Leggendo Quell'articolo Non ho potuto Fare a meno Di pensare A questa matrigna E a questo papà Che Non fanno Che ripetere Che i ragazzi Sono così Che l'età E che quindi Diventare adulto Significa Rinunciare A difendersi E E noi Non abbiamo Difficoltà A credere Che la stessa Comunità adulta Abbia educato Billy Linden E se per questo E se per questo Anche Joy Il grassone Ha l'idea Che diventare Grandi Significhi Toccare le tette Alle ragazze E rompere loro Il naso a pugni Se protestano Povero Povero Billy Linden Chissà quante cose belle Avrebbe potuto essere Fare nella vita Se non fosse Cresciuto così Chissà quante cose belle Avrà davvero Fatto E sarà davvero Stato E nessuno Le saprà Perché per sempre Tutto quello Che sapremo Di lui Sarà Il marchio Del suo Essere un mostro Povero Povero Billy Linden Che crede Nella sopraffazione Perché crede Di essere lui A poter sopraffare E non sa Contro chi Si è messo Povero lui E poveri noi La parte Horror Della storia Non è ancora Cominciata Susie McKee Charles Le mie notti Di luna In Autrici varie Non solo Con il rasoio Mondadori 1994 E a proposito Di mostri Buon Halloween A tutte E a tutti